a nome del Rione Santa Maria della partecipazione spero che sia andato tutto bene e farei ancora una volta un applauso alle cuoche e anche a tutti i ragazzi e più o meno grandi che vi hanno servito Allora, comincerei con un ringraziamento per i due arbitri che ci hanno dato la mano stamattina Vedi Mauro e Gianni Grazie Allora, cominciamo dai baci